Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e sì, come potete vedere siamo in un bosco perché ora che sono finite le vacanze sono partito allora adesso prendo come sentite, non so sento però ci sono i cani a baiano perché con queste suine che stamattina ho sentito due fucilati incredibili no, sì e allora qui è il bosco è un bosco dietro a casa mia che però ci ho già visto qualche roba quindi allora qui poi c'è tutto il bosco e come vedete va molto molto su io sono venuto qui a vedere perché dopo i botti che ho sentito oh cacchio vabbè perché stavo cadendo allora dopo i botti che ho sentito mia nonna mi ha chiesto di andare a vedere e è comunque una bella 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 allora vediamo un po' dobbiamo cercare bene perché comunque allora allora fucile carico comunque quindi comunque in caso posso provare a spaventarlo spine quindi star molto attenti allora guardate questo lì ragnatino e vai guardate questo lì guardate questo lì vuol di un po' calma allora guardate questo lì ok dai che vogliamo allora voglio vedi un problema vuoi tornare lo so che forse devo salire sto cadendo bello molto molto bello e però ancora nulla è un po' complicato riuscire a trovarlo adesso però siamo nel fitto bosco lo vedete e sembra in realtà però c'è ancora nulla se lo vedo provo a far qualcosa però non credo riuscire a trovarlo vabbè o raga aia i rami ecco qua siamo nel fitto bosco bellissimo posto e si potevo portarmi il coltello però vabbè guardate che posto cattivo proprio io proverò a trovarlo con fucile a pompa no a1 bellissimo bello soft air ma vedete il caricatore bellini e adesso la sicura però forse la dovrei togliere allora andiamo andiamo continuare ecco ecco ancora i cani quindi le più fatte cinghiale c'è guardatelo guardate vabbè ora l'abbiamo trovato siamo andati su di molto mi sono pure sbocciato il ginocchio oh vabbè l'abbiamo trovato ciao al prossimo video magari sarà vincente l'altro